Siamo qua, su un nome, un gioco senza nome nel menu, ed è il primo gioco mondiale senza il nome nel menu. Beh, modalità storia, nuova partita, io non so come funziona, difficile, no, normale, siamo normali. Vai, avviare il gioco, no, non mi piace, o me no, mi piace, vai. Suka, ah no, Luca, perdonatemi, nella fotocamera c'è scritto Luca. Vediamo di cosa si tratta, vabbè, ovviamente i sottotitoli italiani, vediamo, speriamo che si vedono grandi, eventualmente se si può ingrandire. Comunque poi gli episodi li trovate su YouTube, ragazzi. La mia testa, ma già sono iniziato? Aspetta, con calma! Cos'è? Eh, ma mi dà le cose da pad, dai, usa il pad, interagisci. C'è un braccio. Non può essere vero. Eh sì, allora. Una gamba e un braccio. No, no, è troppo brutto da pad. Impareremo. Chi sei? Come cosa farai adesso? Papà? Suo padre? È suo padre, ragazzi. Non pare così, papà! Stai piangendo o ridendo? Qua cos'è? Non hai alcuni oggetti da usare. Ah, ma io quindi... È proprio questa la stanza iniziale, ma non vedo un cazzo però. Proprio così? Devo trovare la maniglia. Si possono aprire? Eh, la... Ma la tecnologia... È una lettera? Come cazzo si legge? Ecco. Tuo cugino Romeo. 626. Cazzo, cos'è questo? No, fai luce! Come ruota? Oddio. Mi faccio luce negli angoli bui. Magari c'è qualcosa. Minchia, già siamo intelligentissimi, ragazzi. Cos'è? La maniglia! Vai, mettila qua la maniglia. Già stiamo facendo delle cose. Usa, usa! E ora? Cos'è? Angor, ponde corna, c'urammo. Non posso. Allora è qua, devo levare col martello. Giustamente. Mi sembra ovvio. Usa! Guarda che le animazioni... No, comunque sembra bello, raga. Per adesso sembra bello. E questa? Papà! Come non sei non mio tuo figlio? Apri. Papà, stai calmo, eh. Il prete, il prete aveva ragione. Ah, è vero che io sono posseduto dal denunio bastardo. Avrei dovuto parlare, portarti con l'opera. Non so che te ne devi andare, non vedo un cazzo. Apri, apri sta porta di merda. Dai, allegro come posso, dai. Non è male. Chi non vorrebbe farsi una bella vacanza qua? Una porta con 120.000 catenacci. 26 maniglie. Sicuramente da dentro c'è Godzilla, per forza. Solo con Godzilla puoi mettere... Usa il martello! Ma non posso. Entra, vabbè, qua c'è... Sicuramente dovremmo trovare la giusta chiave. Devo trovare una via di uscita. Prima che papà si accorga che sono qui, perché secondo te non lo sa. All'intanto questa qui penso che era la famiglia. Abbiamo Artemio, abbiamo Gina, abbiamo Pina. Avevo Fusto. Giliberta. Abbiamo tutta la famiglia. Questa è chiusa, la finestra si può aprire, no? Non c'era, dai. Mardo? Ciao, Nexon, vai Romeo. Levo? Un pendolo. Che devo fare? Si può aprire, si può interagire, niente. Non si può fare un cazzo. Che bello sapere che... Torco mondo, bastardo! Peppe! Ma questa era aperta, è aperta. Prima era chiusa. Cazzo, resta aperta. Non ci vado lì, ma... C'era una porta qui. Non lo so, è casa tua, se non lo sai tu. C'era una porta e non c'è più, quindi. Però potrebbe essere un indizio. E qua cosa c'è? Ci sono delle foto fatte con le Rolls. Le Rolls. Qua manca un quadro. Usa il martello. Ma sempre il martello devi usare. Cos'è? Manca un quadro. Magari trovo il quadro. Usa il martello. Perché, ragazzi? Sarei io lì. O martello, scusate tutte le cose. Ma lui non può. Poi, dobbiamo andare qua allora. Oh. Papà? No. No. Fatemi uscire da qua, figli di troia. E qua io non voglio stare qua, bastardo. Devo aprire il tuo gombo. C'è un'atmosfera di merda in questo gioco. Il mio regalo di compleanno? Ha 16 anni, vedi? Il nostro personaggio ha 16 anni, come vi dicevo. E chi l'ha fatto questo regalo? Scusa. Interagisce. Oddio. No, la fotocamera, no. Affè. E ora? Maria, raga, mette i brividi, sta musica. Artemia! È lui, Artemio! Mamma mia, inquieta. Ah, va. Cos'è? Che fai con sta luce? Perché la tocco? Perché tocca la lampadina? Vieni premuto per... Cos'è? Cos'è? Cos'è si apre? Che devo fare? Devo scattare la foto? Oh, caputana! Papà! Aspetta! Vedo un cazzo. Oh, un quadro di merda. Cos'è? Che devo fare? Squoti! Eh, basta, però. Ma la sedia vola nella foto. Ma ci sono gli scarafaggi per terra? Che schifo. Aspetta, metti sul tappeto. Mamma mia, raga, aspetta. Vabbè, leva, leva, sta foto di merda. Cos'è sta cosa? Non suonarlo! Deve essere rotto, e meno male. Apri i cassetti. Cos'è? Ho una chiave! Questo è chiuso. Eh, ma dai, raga, non sono io che l'apro. Quindi, ah, intanto là mancava un quadro. E sembra della stessa misura del quadro di Artemio. Faccio una foto. Sarà lui? Il nonno. Era come... C'è stato qualcosa dietro? No. 1900... E ruotala bene, porco! 1968. Mica, ma è bruttissimo, raga. Artemio! Prendilo. Si può prendere? Afferra, ruota, zucca. Porco! Non gli scarafaggi, no. Ah, è agli occhi bianchi. C'è un buco. A me dove si sentivano i rumori, infatti. C'è un cazzo. Ah, va! Dov'è la lampadina? C'è il cambio, wow. Si sono impeccati. Qua mancano tre quadri, c'è una po... Notizie locali, restanti beni della famiglia. Ma si è accesa. Sono quasi tre milioni di dollari. Ma è intrigante, raga. Con i gioielli in oro e diamanti. La cosa più degna è notata. La macchina fotografica è finalmente trovata un nuovo proprietario. Sono passati trent'anni dai fabbrici radio, omicidi multipli e nonostante le numerose aste per i beni di famiglia. Nessuno ha mai acquistato la sua fotografica. La sua macchina fotografica. Quegli spettatori che lo conoscono. Madison Hill ha ucciso la sua stessa famiglia durante una cerimonia di stregonerie. È stata poi colpita mortalmente allo stomaco. La gente di polizia l'ha fatta... E ora le previsioni medio. Cos'è? Domani si può andare al mare? Cazzo me le fotte le previsioni. Vai. Ah, ok, così. E vabbè, ma è impossibile se non sappiamo il codice. Sono quattro cifre comunque da ricordare. Il quadro l'ho preso. E qua si esce. È un pochino buio, eh. E qua in teoria dovremmo mettere il quadro... Oh, 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 buona male. Ehi, ehi, c'è chi sei? No, c'è una foto. Non vedo niente. Calma, aspetta, aspetta. Mamma mia, raga, è peggio questo 26. Levo di nuovo il panno? Avete mai visto uno mouse e tastiera che gioca così, raga? Questo sono io. Mamma mia. Aspetta, mettici il quadro qua. Il quadro di Artemio. Usa. Dovrei trovare un chiodo. Eh, vai, fare il culo. A vero, giustamente. Però dai, dai, non ha ragione. Dai. No, no. Posso interagire? Un chiodo! Chiodo! Abbiamo chiodo, martello e quadro. Qua è brutto, è brutto sto gioco. È brutto, è brutto. Ti prego, metti il chiodo. Bravo. Mamma mia, metti il quadro ora. Artemio, sei felice adesso? Non vedo un cazzo, Artemio. Abbi pietà. La visuale è un po' strana, raga, comunque. Eh, vuoi che ti faccia una foto, Artemio? Ah, vuoi la foto. Dai qua. Ecco, sorridi. Porco Dio, sei incazzato! Squatì. Stiamo facendo una cazzo, raga, però stiamo andando avanti. Vabbè, basta, basta. Ah, dai, sei venuto bene. Non male, Artemio. Non male, non male. Bravo, bravo a te. Non c'era una porta, dai. C'era il muro, Artemio. Sei stato tu a creare le porte? Vado, vado di qua. Ah, la chiave? Sì. Ma non è, raga, ma che gioco è? Che stupendo, raga, 35 euro spesi bene. Apri. Bellissimo, io li amo, i giochi così. Vado. Ma siamo nella parte... Ma che diavolo ci fa qui, papà? Non è, papà? Cosa c'è scritto qua? Papà ha detto che stava riparando la casa del nonno. E invece stava indagando su questa donna. Ah, sui stambi di sonno. Cosa sta succedendo? Niente, Luca, stai per morire a breve. La gente è come informata. La gente ha messo a fine la cattedra. Dopo una lunga storia di incidenti, la cattedra dice... 43N Madison Hell, che ha ucciso un totale di quattro persone il mese scorso. La veglia sarà pubblica e gratuita e secondo le parole del prete si cercherà di illuminare l'anima di Madison con la luce divina, permettendo di scrutare le porte del cielo e inculare Zexon di conseguenza. Non so cosa c'entra Zexon, tipo, su tutta sta storia. Una donna satanista di 43 anni. Ma vabbè, l'abbiamo capito comunque di cosa stiamo parlando. C'è Madison che è una donna satanista. Ha fatto una serie di omicidi qua. Quattro corpi smembrati sono stati trovati nella casa di Hall. Dove siamo noi adesso? Perché per le vacanze, noi a luglio, andiamo qua. Comunque scattare le foto ci aiuta, magari, a ricordarci le vecchie cose. Ok. Cioè, comunque, che simboli ci sono? Ma io vedo dei simboli che qua non ci sono! C'è una luna... Una cosa che non capisco... È una forchetta? Tipo in alto? Luna a sinistra? L'altro segno così... Boh, vabbè, ci tornerà utile. Apri! Come si apre? Ste porte di merda si devono aprire così. Mamma mia, è scomodo il sistema di apertura. Ma non c'è un cazzo. Ma dove di qui? La chiave! E per forza, no? C'è pure una videocassetta lì sotto. Cosa c'è? Il diavolo? Prendi o conserva? Ma cosa? Prendi. Ah, il quaderno? Prendi. Il mio quaderno? Quindi è stato papà a portarmelo via. Sì, è un bastardo. Vabbè, prendi. È vuota. Conserva. Ah, posso riconservare il quaderno? No, 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 no. Lascia qua. Ma c'è una cassetta. Prendiamola. Non dobbiamo fare più un cazzo a questo punto. Possiamo tornare indietro. Tua padre! Lampo di merda. Vedi, previsioni meteo. Perché si è spenta la televisione quando lo stava dicendo? Almeno sapevamo un po'. Ah, c'è un'altra cosa. Sei un genio. Abre, a Roderio. Ti è permesso. Mamma mia, rumori del cazzo. La casa del nonno. Una casa di merda, fatelo dire. Non ci vengo da quando è morto. Sparta, è anche morto. Vabbè, più o meno, se lo lezzi alla capire. Bisogno dei documenti. Vado di qua. Una bellissima cucina. Ah, qua c'è il coso della videocassetta. No, la tocco più! No, oh, un porno! La tempesta deve aver tolto? No. Credo che il nonno avesse un genatore in cantina. No! Non ci vado in cantina. La cantina di Norma dovrebbe scendere qua. Penso sia questo il generatore. Come cazzo funziona? Usa! Ok, ora. Su. Ah, ok. Attiva tutto! Non va? Allora, uno, due, tre. No. Uno, due, tre. Vabbè, uno, due, tre. Uno, due, tre. Oh. E vai a fare in culo! Accenditi! Accende? Ah, lo devo accendere io, ma non me. Non c'è bisogno di staccare la cosa. Capitana. Ti ha fatto la luce. Mamma mia, che posto di merda, ragazzi. Una porta rossa qua. Belle foto. Non è che devo scattargli la foto, poi, sì. Sembra di no. Molto più accogliente. Minchia, sei accogliente. Ah, pre! Del cesso! Ma prima hai sentito l'acqua. C'è una puzza di merda, si dice. No, per rire. I tubi devono essere intasati. C'è un disegno, per essere scritto. Combinazione. Tre punti, cinque a sinistra. Cinque a sinistra. Quindi la data non può essere perché inizierebbe con l'uno. C'è la data. Però già è un'informazione. Catene? Forse posso romperle con qualcosa. Sbatteci corna! Trovo il martello. Mi rompe? Siamo un cazzo con il martello. Cos'è? Ah, blue eyes. Blue eyes. Sarebbe da indizi. Vediamo. Dov'è la videocassetta. Ecco. Vada! Dal momento del primo contatto, è già troppo tardi. Quando un demone si attacca ad un umano, diventa una specie di garazione. Vabbè, si dovrebbe leggere, ragazzi. Vabbè, mi raccora di dire in�. Vabbè, mi raccora. Sì, voglio dire che no, è sempre semplice. Potrei parlare all'euro di vari procedimenti Il modo migliore è obbedire Aiuta il demone a raggiungere ciò che c'è Di solito entrano nel piano del resto Attraverso certi oggetti Che usano come condotti E' schifo Anche se tu mi ricordi I primi stadi della possessione L'umano spiegando il trascendente Vedando il trascendente Persino il trascendente E' un trascendente E' un trascendente E' il risultato della battaglia spirituale Tra il trascendente e l'entità Un trascendente e l'entità Il trascendente e l'entità Il trascendente e l'entità Vertigini, nausea e mal di testa Grazie al polo E' un trascendente E' un trascendente E' un trascendente Per renderlo malleato Non sia cedente Non posso credere che papà Abbia una stessa persona Strani comportamenti Negli insetti vicini Scarafaggi in particolare Stai alla larga dagli insetti Ma con piacere Tanto non ci stavo vicino comunque E' impossibile Non posso essere posseduto Sì invece sei un bastardo Deve essere un errore Quelle foto Quella gamba Quei bracci Non sono stato io Papà pensa che sia stato io Ma io La mia testa Eh vedi mal di testa Nausea Vertigini Una porta Una porta Una porta rossa Quella che c'era là sotto Nel generatore Aspetta Indizi Cosa mi sta succedendo In te L'alcol Sai cosa stava parlando Non può essere Mi Dai riprenditi Ti prego Luca Ti prego Dai non fai come Ethan Apri il quaderno Potrebbe essere La porta della grandina Eh si Ok A porta della grandina Perfetto ci da diversi indizi Qua cosa c'è Magari troviamo qualcosa di utilissimo Magari un bazooka Cosa Questa sembra cosa per caricare qualcosa Non so cosa Qualcosa davanti tipo Donna mia raga Mi sono cacato Statua di merda Nove in punto Magari un indizio del codice Può essere Magari inizia Nove 12 E il 5 a sinistra Quindi 5 9 12 Potrebbe essere Ah raga Da provare sta cosa Vieni la tv La tv Vediamo se c'è Maria dei Filippi Ho trovato un modo per aprire questa cosa Se vuoi essere da questa casa E lo so ho capito Luca Non calma Riccardo perché abbiamo tre puntini Destra Forza puttana A sinistra E 5 a sinistra Rosario Vado mio C'è apposta la camera Vi dovete cagare addosso anche voi Non solo io Ci sono mille scarafaggi Che in Mamma mia ma quanto fanno schifo e fatti bene Non guardare Mamma mia cosa ce n'è Vada Porca oddio Che è successo Abbiamo fatto incazzare tutto A te mio Minchia L'omicidio è successo qua presumo Io non ci vado Un posto di merda Luca Te lo dico io Impossibile Cosa c'è che non va in me Tutto Dio mio ci sono gli scarafaggi Di nuovo un altro selfie Sorridete Oh però si è smosso Inca me è il simbolo L'avevamo già visto Questo simbolo Tre lucchetti Con i codici Aspetta Se me lo ricordo A sinistra Era Non me lo ricordo A sinistra era Ma cazzo era a sinistra La luna La luna Tipo una specie di luna C'è la luna Mamma mia quanto sei Eccola eccola Ok Sinistra era questo Giusto Messo Sì Aspetta Vai 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 Maxemo 3091 CIRDX5 Sulla e prova a dare la carica All'orologio a muro Ah se mi fai interagire Sì poi ci provo Questo era Il simbolo che non capivo Ma mi assomigliava Tipo questo Po' sta freccettina qua Mi assomigliava Non lo capivo bene E qua c'era la furchetta Sì La furchetta Una furchetta Eccola ecco la furchetta Mi chiesto andando Ok Perfetto Adesso se tutto va bene Se tutto va bene Dovremmo scattare la foto Ed evocare tutti i bastardi Ma posso interagirci? No La pala? L'ho presa Ti ha colpi paraglio? Usa Ah ma così si apre Stavancura Io poto Codice Rompi tutto Rompi Scassala Dai che si ha Eh Ah ma la prende? Cos'è? Spaliamo merda ora Vai Eh Non so ma io Oh vabbè Schettiamo la foto Vediamo se funziona Sorridete scarafaggi Allora secondo me c'è un errore Secondo me è giusto Però Qua magari non era questo simbolo Magari era la goccia d'acqua questa Eh Eh deve esserci Ma si possono riguardare le foto? Com'è l'inventario? Eh va a fare... Oh 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 mondo si è spessato tutto Minchia Ecco Mamma mia raga siamo dei fenomeni E adesso cosa minchia ci faccio con questo? Non vedo Non vedo Non so cosa farci Ti butto? Ah ma si può scendere No 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 Non c'è andare Dai Torna su apri la porta e battene Vai a trombare Ehm